Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, benvenuti in questo nuovo video e nuovo gioco che vi presento che si chiama Digimon Rearise. È uscito da due giorni su Google Play e vi sto facendo per la prima volta il video perché sono molto curioso di vederlo e di giocarlo e quindi ho detto perché non farlo per YouTube o giusto un video così per vedere un attimo ma poi se ci piacerà vedremo eventualmente poi di farlo. Naturalmente c'è coreano, giapponese o penso cinese però penso sia... forse è più cinese che giapponese. E questo qui dovrebbe essere coreano o inglese quindi andiamo su inglese. Le voci assolutamente in giapponese. È un gioco free to play ma naturalmente si possono comprare le cose, è un classico. Attenzione Oh, che ficata Abbasso giusto un pelo, abbasso giusto un pelo ragazzi, altrimenti è troppo alto Ok, perfettissimo Ok, touch to start Ok, touch to start Che figo Che figo il caricamento Ragazzi entriamo nel digi world Digi evolution Digi evolution Not only change the digimon apparent Ok, please input a name Apprentice Digi evolution No, ma nel sentivo Anzi, ma nel sentivo Anzi, ma nel sentivo Scusate, ma nel sentivo Ok 2, 4, 6, 8, 10, 11 Ma vai a spigolare E allora metterla senza Senza la doppia L Anche se tecnicamente il mio è sempre quella doppia L E se vi chiedete il perché, perché L è inferno Ma normalmente Van Helsing si scrive come una sola L Sappiate Però io ho voluto farlo un po' diverso E allora metti il suo il suono per aver capito la voce in questo gioco Quelli mi sembra che la... non è la Kabuterimon, la Kabuterimon era la digievoluzione ancora dopo, era Kabutops Oh, qua sono ancora addirittura le digievoluzioni, ancora quelle più pesanti Quelli non mi sembra mettere i Greymon, però Ok Ah, ci viene sul cellulare, ci abbiamo? Piacere C'è un po' come se fossi i vecchi Tamagotchi Ragazzi, per chi non conoscesse i Tamagotchi, che siete... non siete degli anni 90 I Tamagotchi erano dei... praticamente degli agegini Che si tenevano, diciamo, per lo più come portachiavi Che li mettavate attaccate le chiavi e c'eravate un po' pazzettino, così, una specie di Digimon dentro Che praticamente dovete fare attenzione, che doveva mangiare, doveva cagare, doveva dormire, eccetera Se non lo cagavate per un po' moriva Ok 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 Comunque oggi è il 12 ottobre, eh Per quello, nel senso che vedete che sono due giorni che sono... che è uscito il gioco Magari ve lo opero più tardi, cioè più avanti questo video qua Però intanto lo sapete che non ho detto una cazzata Connessione persa. I shall destroy and eat. Still... and advance the level of existence. The world will change. The world is between humans and Digimon? Destroy. I have observed. It's fine in the beginning. Pusurimon. Si chiama il nostro Digimon. Va bene. Where did you go? What is fun? Mi sono divertito. Mi sono visto con i miei amici. Diciamo. Sono veramente divertito dai. Miandioso. C'è il treno. Sei stanco. Riposa, non ti preoccupare. Ti sveglio io tipo. Dolci sogni. Tipo buonanotte. C'è qualcosa che non va. Ci può fare sbagliate. C'è. Che cosa? Valencia svegliati. Sta succedendo qualcosa. Che figata. Che figata ragazzi. Fa veramente tanto Matrix. E fa tanto questo porto di Digimon. Ok. Un Digimon. Immagino sia un Digimon cattivo naturalmente. Che figo. Lo voglio anch'io un Digimon. Che mi appare dal cellulare. E' bellissimo quel Digimon. Tutto bene? Che cos'è questo mondo? Sei uscito dal mio telefono? Come hai fatto uscire dal mio telefono? Ehm. Va. Ah. L'ha venato? Ok. Lui ci vuole proteggere. Ma stavo ci facessi combattere. Ci stanno combattendo oltre di loro intanto. Oh. No. Va bene. Ah. Poi andiamo. 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 Posurimon. Ehm. Ce ne andiamo? Oh no. Andiamo. Andiamo. Dice volviamo. Sì. Attenzione. Ma che figo. Erismon. Ma che figo ragazzi. Ci è rimasto male il tipo. Attenzione. Ah quindi ha vinto. Ehm. Ficcata. Rookie penso che si intendano tipo i vari livelli come campione. Ehm. C'erano i vari campi. I vari. Uh. Aspetta. Battaglia. Ok. I am to the disease. Digimon like Erismon. Fight. Apologize. Ah no. Scusate. Alongside. You. The table. Ok. Quindi posso. C'erdo io gli comandi. Vabbè. Andando alle skill. Qua ci stiamo. Sì. Ok. Wow. Ok. Diciamo che ha start. Locrate. Ok. Sì. Ok. Abbiamo anche i punti speciali per utilizzare determinati poteri speciali. Ok. Ok. Usiamolo. wood. Lightning quilsis. Grande. Grandissimo. Mamma mia. Che danno che fa. Ragazzi. Abbiamo un Digimon porco spira. Ok. Ho visto ho visto che è diventa grandissimo. e naturalmente ne prendiamo anche le esperienze. your bond digimon digivoluxi ah ok per digivolvere quindi potremmo avere fino a 5 digimon ok qua ci ha spiegato praticamente come fare ottimo ottimo livello 2 ok sentato mentre manca di vita digirubi che probabilmente serviranno per prendere determinati digimon suppongo è entrato un item e ci ha dato 300 bit cos'è tipo l'energia cioè tipo penso sia l'esperienza suppongosì ok ok allora praticamente ragazzi il gioco è molto similare a pokémon a pokémon master diciamo anche qua c'è la storia avanti con la storia lineare eccetera vediamo 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 ok e niente a continuare arci metal cannon attenzione dorumono questo digimon qua si chiama dorumono quindi questo qui è un altro digi prescelto tacumi si chiama tacumi si chiama che figo che ti dico i nomi così che figata ok uso l'attacco speciale dash metal eh attenzione c'è un altro team c'è un altro team c'è un altro team quindi questo ok no usiamo anche le specie da taxi ci mi piace di più grandissima poi c'è di dare anche l'espa ok e beh si gli ha detto praticamente cioè ci ha detto che è contento di vederci faccia a faccia ok altri 5 rubi gear up ok ah questa che è l'energia praticamente deve fare i combattimenti suppongo diciamo che intanto quando si inizia così comunque giochi nuovi ragazzi bisogna capire il gioco come è fatto e tutto quindi io stesso sto ipotizzando l'abbiamo vinto mi sembra un sogno sono veramente qui ok questo qua è molto simpatico eh sono molto simpatici sti due non mi sembra non mi sembra come siamo arrivati qui 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 ma per la crescente ok la crescente la crescente No, no, no. Voglio proteggere! Sì, perché comunque ci aiuta. ok detto che non è l'esperimento quando con noi c'è praticamente ha fatto pochissimo di game fight ok 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 sono degli oggetti tipo che rilasciano i nemici ok ottimo ok ci dice di fare di fare l'autoplay del gioco perché in automatico così da far vedere che in automatico può anche partire da solo l'attacco speciale senza che noi tipo attacchiamo adesso vabbè il gioco sta andando in autoplay ma era solo per farci vedere un secondo come funzionava anche perché ce l'hanno chiesto loro proprio il gioco ce l'ha chiesto 15 ottimo vai ah tutte e tre cos'è un pomodori bene non lo so non so non fu di argomentino sky story vai facciamo anche proviamo a fare anche il boss e poi stacchiamo questo primo episodio ecco un altro come ci arrendiamo peper brif quindi arrivassero arrivati altre persone ah l'acumon lol ha colpito l'acumon sì c'è mi ha dato tipo un colpo in faccia ma tranquillo nice to meet you agumon eh nice to meet you agumon sorry about a eh sì chiediamoli scusa ok non lo faccio quindi scettare quindi c'è tali ok 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 ah copiano la forma dei Digimon quei Digimon li si facciamo questo ok boss fight dovrebbe esserci per forza ma quindi abbiamo anche Agumon con noi che figa si assolutamente si assolutamente si vai 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 non l'hai messo in backup però lo fa penso in automatico spero altrimenti non ce l'abbiamo equipaggiato non lo so vediamo ok ok let's fight together si dicono che vogliamo proteggere noi ok dovrebbe essere diciamo la parte finale cioè nel senso il combattimento finale non c'abbiamo Agumon però ah ok rimane rimane in disparte Agumon ok ok quindi possiamo aggiungere Agumon quando vogliamo ma non gli ho detto di attaccare però ah perché c'è l'auto scusate non ci pensavo c'è l'auto ok 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 si abbiamo avuto lo status fuoco praticamente ok 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 so Boss Battle Allerta Ok Ma per bravo Maledetto La Target Available Ah ok Ci ha pensato il nostro amiciccio Livello 4 Ottimo ragazzi Cioè non possiamo chiedere di più Figata Abbiamo trovato un oggetto Ok ragazzi Perfetto Boss Fight fatta Grazie Sì Ringraziamo tutti Attenzione Lol Ah sta dicendo che adesso potrebbero apparire qua Diciamo I Spiral Sì Tutti qua che si chiamano Spiral E' detto la Totakumi Ah Why should Should we We are doing just fine Sì Sì chiediamogli perché è qua Ok Simpatici eh Mamma mia Sì è nel nostro mondo Lui Arismon Eh sì Agumon si è andato Chi è? Sugoi Mi piace tantissimo Dicono Sugoi Che è sta tipo Ma aspetta Questo pokemon Qua l'ho già visto Non è Gatomod Una delle sue versioni prima Michi Michi Shinja Ah ok It should have already been destroyed And yet It already began Perhaps I should take the things Into my own hands No Not my hands Oh All right Digimon realize The manifesto Erismon Meet Michi And her partner Salamon But they're meeting Interrupted by Mysterious Spiral And one fructious Digimon Emerging from Digital Point Next time Digimon realize Michi And Quagamon Realize Your Digimon Adventure Cioè quindi Mi avete a dire Che il nostro personaggio S'ha già trovato La ragazza Ok ragazzi Allora Visto che tanto Dobbiamo scaricare Il La continuazione del gioco Direi di staccare qua Quindi Intanto ringrazio Tutti quelli che hanno visto Questo video Spero vi sia piaciuto Perché Comunque secondo me È fatto molto bene Peccato che come al solito Non c'è mai Nella nostra lingua Ed è veramente un peccato Secondo me Le case produttrici Dovrebbero un po' Pensare anche All'italiano Non solamente All'inglese O ad altro Però Detto questo ragazzi Ci vediamo al prossimo episodio Magari qualche episodio qua Ve lo faccio anche Di questo qua Sembra molto interessante Divertente Tra l'altro Ho visto che stiamo giocando I Digimon Vi ricordo ragazzi Che il gioco È dedicato a Reda Visto che so che Tantissimo Mi piace tantissimo I Digimon Quindi ragazzi Alla prossima Allora ve l'ho messa un attimo Kei Totamada Mayukoinata Takumi Ragi Che figata Ma mi sembra Mamma o c'era cosa Ecco Patamon E infatti Mi sembra che ci fosse Leomon Leomon Mi sembra si chiamasse Mi sembra tantissimo Che non vedi Digimon Ragazzi Quindi Qualche gastroneria Sicuramente la tirerò No Che bello Che cazzo Quello Il nostro Digimon Bello Bello Ragazzi Mi piace Ok Mi ci scingia Ma in effetti Visto che c'era pata Non pensavo fosse Cari La sola La di Tai Invece no Sì Naturalmente Non li vedremo tutti All'Espirance Infatti Perché al momento Mi ho visto solo No L'abbiamo anche visto Ministro Non li vedremo tutti Mi